Pronti? Bene! E prima! E prima si chi ti lunga! Vai! Vai, meraviglioso! Ci siamo? Ci siamo! Ok! C'è tutta la vita per poter fare questa soddisfazione! Ok! Vai! Vai, vai! Elzo, ti chiedi sportare anche tu! Arrivo! Presidente, prego, sportiti! Attento, attento, Andrea! Ancora, ancora, Presidente! Basta così! Sindaco, vai! Che meraviglioso! Siamo già alla quarta edizione di Stemporanea, una edizione che conferma il successo di questa iniziativa, un'iniziativa che è nata qualche anno fa e che ha riempito di colori le vie della nostra città. Si conferma anche quest'anno con numeri importanti ed è l'occasione di esaltare la bellezza della nostra città attraverso l'arte. L'arte che, come ricordava lei, viene oggi esercitata qui nella nostra città da tanti artisti venuti da tutta Italia. Stemporanea è un giorno di festa, una notte che ci accompagna ormai da quattro anni e ci accompagnerà anche in futuro. Devo ringraziare Enzo Delle Monache per l'organizzazione e tutto lo staff, tutti coloro che rendono possibile questa giornata. È una giornata che peraltro richiama anche, con il premio a Gennaro della Monica, tanta terramanità. Quindi si parte dal ricordo di uno straordinario artista terramano e ovviamente questo ricordo accompagna con la notte di estemporanea ore in cui l'arte diventa protagonista della bellezza della nostra città. Grazie a tutti.